Ciao, benvenuti a questa nuova puntata dei giochi di D e T. Io sono T e lui è D. Come sapete già. Il gioco di oggi si chiama tiro al bersaglio. Sono sempre i giochi da fare in casa e che non sono pericolosi. Per questo gioco bisogna però avere un attrezzo speciale che si chiama sparafagioli che potrete semplicemente fabbricarvi in casa. No, bisogna prendere una bottiglia e tagliarla all'estremità in modo che venga una cosa simile. E poi bisogna prendere un palloncino e tagliarlo all'estremità, anche questo, in modo che venga così. Poi si prende il pezzo di bottiglia e ci si mette il palloncino. Se Diego può aiutarmi. Ok, grazie. E il risultato dovrebbe venire più o meno così. Il gioco consiste nel mettere il bersaglio che noi oggi prenderemo in esame la bottiglia. Ma dovremmo prendere qualcosa per colpirla. Oggi useremo i cereali. Perché sono sicuro in casa. Si infila dentro il cereale, come potete vedere, che è lì che ci muove dentro. Si soppia in modo da gonfiare. Si prende, bisogna palpare finché non si sente il cereale. Si prende. Si mira. E si spara. Peccato quando abbiamo boccato. Io in questo caso ho mancato la bottiglia. Però con questo gioco bisognerebbe farlo con un amico a turno e chi preoccupisce più volte su 5 o 10 tentativi vince. Oppure si può fare anche da soli per allenarsi. Bene. Questa puntata di i giochi di D&T è finita.